Pugilato, eventi di pugilato, gente che semena, situazioni di tutti i tipi. Tante volte mi chiedete, citalo, dove posso vedere il pugilato? Che me vado a vedere uno streaming scureggione che arriva da un paese sconosciuto con i banner pornografici? Oppure me lo vado a vedere attraverso la finestrella dell'occhiolino de casa de mi cugino? Spesso queste sono le domande che voi mi fate. In realtà io ieri ho avuto la fortuna di partecipare a un evento Dazzon che è poi sostanzialmente quel sistema, quell'emittente, chiamiamola così, web che trasmette anche il pugilato e pugilato di alta qualità in alta qualità. Voi direte, ciclo, ma che t'ha sponsorizzato Dazzon? Assolutamente no, però già ne ho parlato in passato ed è una delle cose che ci sta aiutando in questo periodo per sopperire alla crisi di pugilato che c'è in Italia. Oggi vi voglio parlare un attimino di questa cosa qui, cioè della realtà di Dazzon e dei problemi che noi abbiamo dal punto di vista sia organizzativo ma anche di pubblico. Scuola di Botte Siamo di Scuola di Botte e meniamo tutti I bulli, i ciccioni e quelli brutti Se tu vuoi vincere colpisci il sotto Non la faccia, non la spalla, nemmeno il naso rotto Cicalone ti insegna i pugni molto utili Ma se fai il prepotente diventano inutili Se tu sei ciccione, noi ti aiutiamo Da oggi basta Allora partiamo con ribadire per gli scureggioni, per tutti quelli che non capiscono niente che non sono sponsorizzato da Dazzon Io il mio abbonamento lo pago 10 euro al mese Così chiariamo il mio punto di vista che poi non mi dispiacerebbe collaborare con Dazzon ma per dare il mio contributo, questo è in dubbio Però oggi quello che vi dico io è qualcosa che ho notato, ho visto e grazie all'invito che loro mi hanno fatto per partecipare a un loro evento ho anche capito Partiamo da un presupposto importante Quando c'è un evento di pugilato spesso bisogna farsi il segno da croce se siete credenti perché arrivate spesso, in alcuni casi, in posti veramente impervi Ah ci vediamo alla capannina magica del burrone da Maranella E uno arriva lì e dice ma com'è, ma dov'è sto posto? Indicazioni fatte così eccetera eccetera Altre volte arrivi e magari non ci stanno abbastanza posti se sta stretti, se morete caldo piove e tu stai all'aperto fa freddo e tu stai archiuso con i ghiaccioli Un'infinità di variabili Questo perché? Perché non per la cattiveria di chi vuole organizzare ma perché ci manca il pubblico Perché manca il pubblico? Perché non si riesce spesso a coinvolgerlo Per coinvolgere il pubblico bisogna portarlo a capire Una prima cosa che io dico è questa Tanti portano le persone al pugilato perché Oh combattemi cugino, è quello forte del quartiere, andamola a vedere E se raggruppano tutte queste persone senza arte né parte che vanno a vedere il pugilato ma senza neanche cognizione di causa Io non dico che bisognerebbe andare tutti con una grande esperienza di sport a combattimento a vedere gli incontri anzi al contrario, io dico che bisognerebbe avvicinare proprio le persone che gli sport a combattimento non li conoscono Come possiamo avvicinarle? Perché dobbiamo avvicinarle? Perché spingiamo tanto su questi sport a combattimento? Partiamo da una premessa Il pugilato in Italia è sempre stato glorioso Abbiamo avuto tantissimi campioni Abbiamo esportato tantissimi campioni Perché ragazzi, quando c'è un campione andate a vedere, per metà è sempre italiano storico Oggi abbiamo grandi difficoltà A monte qual è il nostro problema? È che non essendoci soldi per preparare un pugile non ci sono i soldi per farlo campare, preparare ed allenare Cioè, è come se tu mi dici Ah oh, senti, dovemmo fare una grande cosa domani mi costruisci in palazzo Ah sì, sto contento, finalmente lavoro ti dice quello Piccato che non ti danni i mattoni non ti danno carci, non ti danno niente anzi, ti dicono che te li devi andare a comprare con i soldi tua Ma tu poi lo costruiresti in sto palazzo se ti devi anticipare tutti i soldi quando hai finito ti dico bravo, hai costruito il palazzo a riederci e grazie Poi non c'hai nessuno che ci fa abbi da dentro, ancora peggio Allora, in sostanza Dazzon, in Italia, sta organizzando degli eventi Io sono stato all'evento ieri la prima cosa che ho notato quando sono arrivato era il grande dispiegamento di forze chiedo all'organizzatore mazza tante camere e lui mi dice guarda che quando noi facciamo l'evento di Joshua o facciamo l'evento qui a Roma al Foro Italico usiamo gli stessi strumenti perciò questa è una grandissima cosa a questo punto di vista perché non fa né figli né figli astri che vuol dire che se combatte Joshua in una location importante o combatte l'ultimo pugile della scuderia italiana in un evento comunque organizzato da loro le forze la qualità e l'effetto sarà lo stesso cioè ci danno le stesse armi in pratica vi lamentavate prima che non ci avevate la location che non ci avevate le riprese video di qualità che non ci avevate il 4k che non ci avevate questo questo e quest'altro mo noi vediamo tutto adesso sta a voi mette il resto in realtà un'altra cosa che ho detto a Dazzon è che secondo me oggi bisognerebbe iniziare a puntare su un target perché sono arrivato e ho iniziato a vedere tante delle vecchie facce che trovo alle riunioni di pugilato questo non è un male ma non è neanche un bene che cosa vuol dire che se arrivo e trovo il signore dei 70 anni che Dazzon non sa manco che è gli faccio ah lo sai che va su Dazzon questo ma che è sto Dazzon che canale è io ho visto fino al 50 non si vedeva niente non c'era Dazzon io più del 50 non ce l'ho perché il telecomando mio arriva fino al 50 gli faccio vedere non è un canale tv è una cosa via web che cacchio è via web c'è presente Netflix no non ce l'ho presente ha mai visto a YouTube non ce l'ho presente vabbè è un on demand praticamente c'è un'applicazione che è un'applicazione? io c'ho il televisore con il decoder allora un topo vedi Dazzon cioè il nostro problema è che se abbiamo un target io ripeto io sono vecchio però c'ho Dazzon e c'ho tutta quanto una serie di cose tecnologiche ma c'è abbiamo un target di persone che non stanno focalizzati su quello che sei tu già già parti male gli unici che veramente dovremmo avvicinare tanto sono i ragazzi giovani perché oggi il ragazzo giovane ha una maggiore difficoltà anche nel decidere le cose più banali qual è la psicologia? se oggi il ragazzo giovane per dire approccia Fortnite perché è già bello e pronto è gratis si gioca ci si diverte tutto quanto dall'altra parte chi propone un divertimento un'interazione un intrattenimento alternativo dovrebbe pensare chissà perché Fortnite che è un videogioco abbia preso così tanto piede tra i ragazzi lo stesso vale per noi allora oggi pagando per dire 10 euro ti vedi tutto lo sport compreso UFC che non è uno sport è una lega dell'MMA ti vedi il pugilato ti vedi il calcio e via dicendo ma per appassionare qualcuno a uno sport no? come un po' sta facendo l'UFC nelle MMA perché noi abbiamo una moda molto importante che dice io voglio fare MMA io voglio fare MMA io voglio fare UFC come se fosse una disciplina UFC si comunica con i giovani e allora il giovane che poi è l'adulto del futuro è quello che poi si interesserà alle cose e che ha il potenziale per interessarsi alle cose perché capisce tecnologia è nato in un mondo digitale lo segue il pugilato è rimasto vecchio perché è rimasto vecchio? perché spesso ci sono delle teste che sono rimaste vecchie dietro al pugilato e questo non è un bene io pure so vecchio ma se devo parlarti del trapper del cantante hip hop del videogioco della nuova tecnologia lo so fare non è che mi sto candidando io assolutamente al contrario io preferisco fare i miei video per i cavoli miei e raccontare quello che mi pare a me però è anche vero che mi metto dall'altra parte e dico ma perché continuiamo ancora su sta strada? non abbiamo capito come funziona Dazon secondo me è la strada giusta è la strada accessibile ai ragazzi perciò se lo posso non è dallo smartphone dal tablet dalla smart tv eccetera tutte cose che la persona più grande che mediamente seguì al pugilato non avrebbe utilizzato o utilizza a fatica e non è quella sulla quale possiamo puntare in più i ragazzi hanno un altro vantaggio possono fare passaparola possono condividere in tempo reale a centinaia di altri amici quello che può essere una passione il pugilato ma dobbiamo dargli alla sta passione come fai a dare una passione a una persona gliela devi spiegare una cosa se io non gli faccio percepire una passione mia a lui questo difficilmente la condividerà uno dei miei obiettivi spesso è condividere proprio la mia passione spiegarti perché magari adesso io parlo del pugilato ma questo vale per tante altre cose il pugilato possa far bene a te possa essere interessante da vedere possa essere uno stimolo per crescere e fare meglio e possa essere tra virgolette una guida adesso togliendo casi perché sapete qual è il discorso poi noi abbiamo spesso la stampa contro l'altro giorno c'era un articolo uno mena uno mena l'altro pugile mena pugile cioè così hanno deciso d'amble pugile oppure un pugile c'è un diverbio stradale ce se fa l'articolo cioè ma il diverbio stradale non è che ce se non è che se sono fatti male quello che è stato arrestato il morto eccetera un diverbio stradale normale purché ce sia il pugile quello finisce sui giornali c'è questo vizio della stampa e già ne ho parlato in passato di demonizzare il pugile perché fa subito perché richiama subito allora usiamo in maniera positiva il fatto che il pugile richiami subito l'attenzione ma per farlo in maniera positiva dobbiamo coinvolgere le persone in quello che è che sono le regole del pugilato come funziona un po' la storia un po' quello che è e dargli una spettacolarizzazione al pugilato cosa che Dazzo per esempio fa ieri ero all'evento mille camere l'americana con tutte le luci fighissime hanno fatto venire Michael Buffer c'era Diamante che presentava tutti gli altri eventi perciò hanno presentato anche in lingua inglese in modo tale che quella manifestazione fosse fruibile anche su altri net diciamo questo è un percorso corretto ma lì dentro ci mancava il pubblico fresco ok c'erano i vecchi soliti che vengono al pugilato quelli portati dai pugili perciò i pugili che si portano i loro amici figli degli amici parenti degli amici e qualche appassionato chiamiamolo sporadico ma non c'era il casual cioè il casual è quello che dice oh ho visto che stanno facendo il pugilato siccome l'altra sera mi sono interessato al pugilato per questo questo e quest'altro motivo automaticamente me lo vado a vedere a me fa piacere che quando sono a questi eventi mi riconoscono musicalo io ti seguo grazie ma hai fatto appassionato a sto sport ma io sono la punta di un iceberg io ho un potenziale mediatico ridotto per ora poi magari chissà in futuro perché ovviamente sono da solo parlo da solo parlo alla gente e tanti gli sto pure sulle palle ma va bene ma chi se ne frega però questo se noi abbiamo un potenziale mediatico più ampio come può essere Dazzo stessa dobbiamo battere su quella parte che sono le persone casuali gente che non sapeva neanche che cosa fosse il pugilato fino al giorno prima e che si è appassionata grazie agli input di qualcuno in questo caso i miei perché ripeto tanta gente mi schiava oh grazie mi sono appassionato a questo questo e quest'altro anzi ho scoperto anche il modo di vivere stare un pochettino meglio grazie agli sport a combattimento a una sana alimentazione e alcune attenzioni poi nessuno vi dice che dobbiate vivere una vita casta e tutto quanto io ieri sera per esempio mi sono bevuto una birra e mi sono mangiato dei dolcetti perché c'era la sala apposita c'erano pure dei ragazzi di scuola e botte mi hanno visto ma che fai domani domani mi vado a allenare che problema c'è non faccio ermagni e spigni ma ho mangiato normalmente quattro pasticcini due pezzetti di pizza decorosamente buona non unta e una birra e una birra Heineken di quelle leggere facile pulito tranquillo detto questo però l'impegno deve essere da parte di tutti ma io qui non mi rivolgo non è che voglio prendere a voi e dirvi ragazzi però se voi avete scoperto questa passione perché se state su sto canale qualche cosa starete a seguire Pugilato da parte storie di Cicalone c'è da parte vostra un interesse a questo sport e io vi esorto vi invito anche a voi a condividere questa cosa finiamola di arrivare agli incontri di Pugilato o me ne gli buttelo di sotto sfornalo cioè analizziamole anche nella bellezza che può essere un singolo match perché ieri ci sono stati tanti match tutti diversi l'un all'altro c'è stato un brutto KO c'è stato un verdetto unanime c'è stato un debutto c'è stata una rivalza eccetera eccetera perché poi ogni Pugile fa storie a sé ed è importante capire che quella storia è come un film raccontata cioè non è affine a sé stesso faccio l'esempio Denchenko che saliva sul ring e aveva la chance per un titolo importante che viene comunque da una vita difficile sacrifici lui che viene comunque dall'Ucraina in Italia tanti match sconfitte vittorie e tutto quanto che arriva lì dà il cuore porta a compimento il suo obiettivo con un avversario più giovane più fresco e tutto quanto è una storia un piccolo film a sé e questo va interpretato in questo modo se noi iniziamo a ragionare in questo modo iniziamo a capire i personaggi iniziamo a capire il sacrificio che c'è dietro un blandamura che prende un K così ma si rialza cerca di rialzarsi poi ricai cioè ragazzi Rocky va raccontato ste storie in maniera cinematografica ma ieri Emanuele ha fatto la stessa cosa quando ha provato a rialzarsi che si è appoggiata le corde ma poi si è dovuto appoggiare l'arbitro ovviamente lì l'incontro era finito però sono momenti particolari addirittura lo hanno dovuto far sdraiare a terra gli hanno leato guantoni scarpe paradenti perché ovviamente sono situazioni anche drammatiche sotto certi punti di vista però vi fa capire quanto sia la voglia poi dell'atleta di accontentare il pubblico combattere per qualcosa per qualcuno perché poi alla fine si è messo a piange lui ma si è messo a piange per nervoso per delusione perché comunque lui ci aveva messo il cuore e lo voleva fare queste sono storie che vanno vissute e raccontate che poi danno un seguito perché se ci vediamo l'incontro di quella persona che una volta perde la volta dopo ci mette il cuore e vince per noi è la seconda parte di un episodio cerchiamo di vederli così approfittiamo ragazzi che adesso c'è questo network che sta investendo grazie anche a collaborazioni d'Italia collaborazioni internazionali nel portare eventi di qualità anche a Roma in questo caso ma in tutte le città d'Italia Firenze Milano prossimamente Trento e via dicendo e siamo noi i primi promoter dell'evento di Pugilato dell'atleta che ci piace deve esserci dello spettacolo deve esserci qualche cosa che viene raccontato il Pugilato va visto in questo modo e ovviamente quello che io dico a una grande emittente come Dazzo in questo caso è cerchiamo di sensibilizzare di più il pubblico anche attraverso dei tutorial e dei racconti delle storie che possono esserci dietro a ogni singolo pugile perché quando io arrivo e dico ah stasera combatte Tizio contro Caio ok uno solo guarda Audizio è muscoloso Caio non mi pare tanto muscoloso per me semenano speriamo che esce il sangue e qualcuno va per terra questa è la prima reazione che c'ha un'oscureggione se io in realtà inizio a dire stasera combatte Tizio questa è tutta la storia di Tizio come hanno fatto poi per Emanuele hanno fatto una sorta di docu fiction documentario e tutto quanto allora inizia a creare un'atmosfera diversa inizia a creare un'empatia diversa con colui che combatte con il pugile con l'ambiente e con quello che sarà lo sport il sacrificio e tutto lo che c'è dietro detto questo spendo giusto due parole sull'evento l'evento molto bello so riuscire come dicevo prima a portare tutta una serie di qualità a Roma in una location importante avendo comunque cura dell'organizzazione tutto ha funzionato bene si vedeva bene forse il limite che io ho trovato è stato molto il fatto che troppi operatori troppi cameraman per chi stava a bordoring come me pregiudicava la visione però se questo sacrificio vale per farlo vedere al pubblico a casa in maniera ancora più oculata ancora più precisa va benissimo però se io vado lì e mi trovo quello avanti e indietro quello attaccato da una parte quell'altro il crane su e giù cioè diventa veramente complicato però ripeto ci può stare poi i limiti della location ci stanno sempre non era uno studio televisivo era un campo da tennis centrale del tennis ma sempre quello era però mi ha fatto molto piacere ringrazio comunque Dazon dell'ospitalità e se in futuro mi volessero avere di nuovo come ospite ben venga perché comunque mi piace raccontare queste storie continuo e faccio l'appello a tutti voi continuate a seguire il pugilato continuate a seguire gli sport a combattimento praticateli perché per avere la maggior passione è anche praticarli in maniera amatoriale o prepugilistica stessa o qualsiasi altra alternativa seguitemi anche su twitch perché spesso su twitch dove si fa gaming perciò vado in netta contrapposizione al famoso fortnite eccetera io parlo di sport a combattimento alimentazione buone abitudini e stronzate varie tipo le mie storie di viaggio le mie storie varie risse botte ed esperienze varie saluto tutti ci vediamo alla prossima ciao